Grazie a tutti. Quindi qua stiamo facendo un bel messaggio per Aldo, visto che è la prima volta che l'hai fatto è stato un po' vago. Di quello che veramente vuoi dire ad Aldo, visto che è davanti a te una telecamera e tutto il tempo che vuoi per dire non solo dell'Alt ma anche di Aldo. Allora, buonasera a tutti. Ringraziamo Aldo perché non lo conoscevo come persona, rimanendo vicino, che ogni domenica andiamo a trovarlo nei capoluoghi delle regioni. È una grande persona e si vede che corre proprio con un grande desiderio di unire l'Italia. Ora però devi dirci anche qualcosa che sia uno slogan vero e proprio, ovvero... Sulle mani i fratelli. Oramai è diventato un nuovo tormentone. A dopo, ciao!